Marco, che ha detto ha trovato un bel fungone? Ho visto un fungo affacciato perché avevo visto quel fungo laggiù che è una vanita e poi ho visto un cumulo di fogli qua, l'ho spostato ora mischi la vita no, non neanche l'ho visto, ma ti vedo te, sarai dove vai te ah, ora l'ho visto ce l'hai? si, ti avvicino aspetta aspetta hai preso o no? lo vedo a occhio o non lo vedo a quella cosa? vabbè, io lo tolgo così si vede meglio ah, ora si aspetta, guarda là, bello eh e qui ce n'è non ne metto un altro ma lascio stare perché è piccolina guardate che bellezza si bello amore la dimostrazione che i funghi fanno sempre forse più strani, almeno quelli belli tu mi conto che ieri c'è passato c'è passato il mondo di qua un fungo così vale doppio eh si va bene? si risalgo perché se no è una posizione molto molto scosa sarà del caso ciao a tutti ciao 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 Grazie.